Il Meteo è presentato da... Vuoi ristrutturare la tua casa? Oggi hai la soluzione ideale! Vieni da Infinity Colors! Set trapano avvitatore con percussione e avvitatore ad impulsi Super Promo 229€ Smerigliatrice potenza 900W Super Promo 38€ Effetto sabbia Creative Desert Stone 27€ Disponibile varie colorazioni Infinity Colors In via Perpignano 247 a Palermo Benvenuti a Meteomed! Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque Nello specifico sull'itolare Tirrenico, sull'Appennino, giornata in prevalenza poco nuvolosa Salvo presenza di nubi sparsi al mattino Sul litorale Ionico c'è l'imprevarenza serenio poco nuvolosi per l'intera giornata Salvo la presenza di qualche addensamento serale Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e rotazione ai quadranti nord-orientali La temperatura massima registrata sarà di 18 gradi e la minima di 12 Basso Tirreno poco mosso, canale da mosso a poco mosso e mare di Sicilia da poco mosso a mosso Grazie per averci seguito e alla prossima edizione Il meteo è stato presentato da Vuoi ristrutturare la tua casa? Oggi hai la soluzione ideale Vieni da Infinity Colors Ferroli Climatizzatore Inverter Wi-Fi Alexa Google Home 349 euro Guaina Arrotoli a partire da 42,90 euro Idropittura Superlavabile 14 litri 37 euro Infinity Colors In via Perpignano 247 a Palermo